Nel terzo e ultimo esempio il parametro k compare nella prima equazione tra i termini noti, nella seconda equazione compare invece tra i coefficienti delle variabili. Scriviamo quindi la matrice M che conterrà una volta sola k. Come prima andiamo a calcolare il determinante di questa matrice, che sarà uguale a 2k più 4. Il determinante di M è diverso da zero per k diverso da meno 2. Quindi concludiamo che per k diverso da meno 2 il sistema ammette un'unica. soluzione. Consideriamo a questo punto il valore di k che abbiamo escluso, ossia k uguale a meno 2. Per k uguale a meno 2, come negli esempi precedenti, il determinante della matrice M è uguale a zero. Quindi possiamo scrivere che la caratteristica della matrice M è uguale a 1. E andiamo a scrivere la matrice completa, dove al posto di k generico andiamo a sostituire il valore di k che stiamo considerando. quindi la matrice sarà 2, meno 1, meno 2, 4, meno 2, meno 4. Osserviamo che le righe della matrice completa sono direttamente proporzionali, perché possiamo moltiplicare per 2 la prima riga e ottenere la seconda. Quindi in questo caso la caratteristica della matrice completa è uguale a 1 e le caratteristiche delle due matrici sono uguali. In questo caso concludiamo che il sistema per k uguale a meno 2 ammette infinite soluzioni. Grazie.